di quel giorno mi ricordo che ancora ho una emozione fortissima devo dire quando ne parlo quasi sempre i brividi perché perché la cosa che ho sempre ricordato è lo stacco che c'era tra me giornalista professionista che doveva raccontare quei fatti e l'affetto che io avevo nei confronti di una persona come Giovanni Falcone anche del suo caposcorta Antonio Montinario che io conoscevo benissimo perché io per anni sono stato fuori dal bunkerino di Giovanni Falcone in attesa che lui ci potesse incontrare parlare si confrontare si quel giorno appena abbiamo saputo dell'esplosione io ero a casa ero libero i conisti giudiziari il sabato non lavorano perché non ci sono udienze quindi ero libero sono ero a casa a un certo punto mi hanno chiamato dei colleghi dicendo guarda c'è stata un'esplosione sull'autostrada noi all'inizio si è pensato che ci fosse stata un'esplosione sulla cementeria quindi che fosse un incidente di lavoro poi quando siamo andati in redazione allora non c'erano i cellulari quindi abbiamo cominciato a fare telefonate io avevo fonti molto potenti all'epoca e in pochi secondi abbiamo saputo tutto la nostra troupe è andata l'hanno spostata da un posto dove era andata a fare un inaugurazione penso alla fila del Mediterraneo l'hanno spostata è andata un collega bravissimo Marco Sacchi che ovviamente arrivato qui si è trovato bloccato non poteva passare nessuno noi non potevamo passare quindi lui è riuscito attraverso una stradina secondaria si è fatto accompagnare da un ragazzino con la motoretta gli ha dato dei soldi e si è fatto accompagnare sul posto è arrivato è arrivato sotto poi ha scalato la rampa e si è trovato di fronte questa questo inferno noi ovviamente siamo rimasti a prendere tutte le notizie possibili immaginabili i nomi che erano storpiati all'inizio no Antonio Montinaro era diventato Antonio Montinari diciamo poi noi gli altri nomi era un po infatti nella mia prima diretta ci sono delle imprecisioni quelle legate al fatto che la sala operativa registrava i nomi man mano che le pattuglie erano qui e che cercavano i documenti di queste persone che come come sapete erano ridotte in maniera incredibile cioè irriconoscibili insomma praticamente Giovanni Falcone veniva dall'aeroporto perché lui lavorava a Roma veniva dall'aeroporto lui era da un periodo in cui lavorava a Roma perché Martelli lavorava sì perché lui a Palermo praticamente non riusciva più a lavorare non andava d'accordo col procuratore della Repubblica che lo comprimeva costantemente dell'epoca si chiamava Giammanco il procuratore che comprimeva tutte le sue istanze insomma cercava di disminuirne il valore lì c'era sicuramente una questione anche di gelosia professionali anche di punti di vista diversi sul modo di applicare la legge insomma comunque Falcone stava malissimo a Palermo per cui a tutti i suoi amici spiegò che doveva andare via e soprattutto con la visione del grande giurista lui capì a Roma poteva fare cose importanti e quindi accettò l'incarico di Martelli andò a fare il direttore degli affari penali e quindi tornava a Palermo nei fine settimana quando poteva in quel caso appunto con Francesca Morvillo che allora era in una commissione d'esami credo diciamo dei magistrati e quindi si era liberata ed erano tornati indietro e quindi lui guidava guidava lui aveva a lui piaceva guidare quando poteva quindi aveva tolto aveva praticamente incredibile aveva detto a Giuseppe di Costanza l'autista di mettersi dietro praticamente Giuseppe Costanza è vivo praticamente riuscito a sopravvivere nonostante le ferite e i traumi e quindi lui veniva qui e stava arrivando eccetera eccetera e poi all'improvviso c'è stata questa esplosione incredibile una voragine inenarrabile c'è qualcosa che ripeto noi non avevamo mai visto il la mafia ha messo in cantiere in quel periodo uno squadrone di criminali che hanno seguito passo passo Giovanni Falcone Falcone era seguito a Roma come tu sai c'era stato un progetto di attentato a Roma dove Falcone viveva una vita quasi normale addirittura anche una scorta limitata limitata dal volta sfuggiva anche alla scorta usciva con suoi amici alcuni nostri carissimi amici giornalisti con cui andava a pranzo per liberarsi un po di questa cappa che 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 aveva addosso anche del carico di lavoro straordinario di cui si sbarcava proprio per stile personale insomma lavorava tantissimo e quindi era c'era l'attentato era programmato a Roma un commando con il Graviano andò a Roma per uccidere un certo punto rientrò questo progetto e Rina fece sapere no no tornate il progetto era avanzatissimo avevano individuato i posti dove andava a mangiare il commando era piuttosto numeroso avevano trovato alleanze sul territorio per potersi muovere quindi era un progetto avanzato avanzato eppure a un certo punto Rina gli dice no dovete tornare indietro lo facciamo qua ma erano in grado da soli di ordire un progetto del genere un progetto di questo livello militare perché questa è un'operazione militare è possibile che dei mafiosi avessero le competenze per fare un'operazione del genere è vero che questi erano mafiosi che avevano delle relazioni particolari perché c'era un neofascista con loro noi tradizioni fascista Ferrante Gioe era un uomo dei servizi segreti e Gioe era nel commando a pochi metri da qui 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 è stato il luogo dove è stato fatto brillare l'esplosivo almeno questa è l'ipotesi che che si è che si è detta e che è stata comprovata anche da molti fatti concreti però avevano le competenze intanto c'è un collaboratore di giustizia che dice che nel momento della fase di preparazione dell'attentato c'era anche una persona esterna a Cosa Nostra c'è una persona che non era ignorata dagli altri e in genere no c'è una regola dentro Cosa Nostra se qualcuno non ti viene presentato tu non devi fare domande videro questa persona estranea all'organizzazione ma nessuno chiese chi fosse la stessa cosa che succede in Via D'Amelio succederà in Via D'Amelio 57 giorni dopo quando preparano l'attentato praticamente c'è una persona estranea e nessuno chiede chi sia lo dice Spatuzza che è un collaboratore di giustizia che ha rivoluzionato le sentenze su Via D'Amelio viene considerato assolutamente affidabile quindi non c'è ragione di credere che lui abbia potuto dire il non vero quindi Spatuzza dice che c'era un estraneo questo estraneo non è mai stato identificato non è stato identificato sempre che fosse lo stesso in Via D'Amelio ne è stato identificato a Capaci quindi intanto questo è una ragione in più per continuare a indagare poi le presenze di Gioè ripeto che era uno legato ai servizi segreti la mafia fa l'attentato si avvale di competenze esterne all'organizzazione criminale perché non ha le competenze per fare quell'attentare in stile militare e partecipa a un progetto politico per destabilizzare il paese o cercare una soluzione alternativa la trattativa il processo trattativa ha pensato di individuare in questa stagione stragista il prodromo per sostenere un cambio politico nel nostro paese secondo me questa parte dell'inchiesta ha individuato in realtà lo scenario in maniera corretta un disegno politico che c'è al di là delle soluzioni perché poi le responsabilità penale sono una cosa le ricostruzioni storiche sono altre il fatto è che nel 1994 c'è un cambio politico in questo paese Berlusconi va al governo nel 1994 vengono arrestati Graviano a Milano e improvvisamente finisce tutto non ci sono più attentati non ci sono non muore più nessuno ci sono omicidi nonostante ne fosse uno in corso attentato all'Olimpico durante Roma Molinese loro vengono arrestati alla fine del novembre del 94 i Graviano a Milano dal tentato era a gennaio in preparazione e aveva preparato Spatuzza insieme con i Graviano quindi i Graviano perseguono continuano a perseguire l'obiettivo ma ti faccio una domanda e mi faccio una domanda che vantaggio aveva Cosa Nostra dal fare le stragi che cosa ha ottenuto non doveva immaginare e che ci sarebbe stata una risposta fortissima potentissima dallo Stato come ci fu addirittura fanno Capaci si vendicano di Falcone accettiamo la soluzione come dire l'ipotesi riduttiva è solo una vendetta si sono vendicati di Falcone perché fanno via da meglio nel momento in cui scatta la strage di Capaci il Parlamento decide delle misure senza precedenti nei confronti delle organizzazioni criminali il 41 bis trasferiscono i mafiosi nelle cacce delle isole quindi ristretti in condizioni assolutamente senza precedenti forse addirittura risalenti ai tempi del fascismo qualcosa del simile quindi una scelta radicale di grandissima severità benissimo però le leggi non passano non vengono approvate dal governo dal Parlamento perché si considerano delle leggi liberticide avviene via da meglio e tutte quelle leggi vengono immediatamente votate quindi la risposta dello Stato è stata durissima e loro continuano la fase stragista praticamente nel 94 nel 93 organizzano le stragi Firenze Roma e Milano perché perché l'obiettivo secondo me non era interno a Cosa Nostra non era raggiungere un risultato per Cosa Nostra era un obiettivo diverso era quello appunto di favorire la nascita di un nuovo equilibrio in questo paese in cui in qualche modo tutta la stagione delle stragi neofasciste della partecipazione di radio al processo diciamo di condizionamento democratico tutto questo potesse essere definitivamente archiviato con una nuova patina di governo e di normalità in questo paese questi sono gli ultimi chilometri che Falcone ha percorso guidava lui come ti dicevo accanto a lui c'era Francesca Morvillo e qua tolse le chiavi e qui tolse le chiavi perché Costanza gli disse dottore guardi che ha le mie chiavi poi me le deve dare se no lunedì come facciamo allora lui in maniera incredibile spila le chiavi e Costanza gli dice dottore ma che faccio andiamo a ammazzare pensate cioè gli dice ma ci andiamo così ci andiamo a ammazzare e quindi un po' la macchina rallenta cioè si distacca dalla testa della scorta del compoglio e infatti probabilmente quello ha determinato più le titubanze di Brusca o come qualcuno dice perché c'era un altro comando che attivò il telecomando vero il fatto è che qui succede inferno si apre una voragine la macchina di Giovanni Falcone la croma bianca va praticamente a cozzare contro questa montagna di detriti che all'improvviso si solleva su di voi sostanzialmente lui muore per l'impatto praticamente diciamo dell'auto nei confronti di questa montagna di detriti che si è sollevata dall'autostrada o cioè da uno spostamento dell'aria quindi incredibile cioè Falcone anche poteva anche restare vivo cioè se lui fosse stato dietro sarebbe stato sacrificato sicuramente Giuseppe Costanza ma lui sarebbe rimasto vivo e immaginate che cosa cosa come poteva cambiare la storia di questo paese Beh secondo te le entità esterne, quei soggetti esterni erano presenti? Secondo me erano presenti E se si dove? Secondo me erano presenti durante la preparazione degli attentati e quello è un dato formalmente certificato dagli atti giudiziali perché ci sono le rivelazioni di collaboratori di giustizia e sono stati ritenuti attendibili per tutto il resto se non dovremmo pensare a qualcosa di demoniaco che dicono la verità quando ricostruiscono le presenze degli uomini che preparano la strage e divono il falso quando indicano una presenza esterna quindi quelle presenze esterne durante la fase più delicata della preparazione dell'attentato c'è la fase di mentre imbottiscono l'autostrada di esplosivo 400 quasi 500 kg di esplosivo piazzati qua sotto in quel momento era presente quindi è qualcuno perché era presente doveva vigilare che tutto fosse fatto bene quindi per conto di chi era presente quella è una domanda che secondo me necessita indagini voi sapete c'è un'indagine bellissima di report del collega Paolo Mondani che ha individuato la presenza di Stefano delle Chiaie c'è un neovacista Stefano delle Chiaie in quei giorni a Palermo e l'ipotesi anche che fosse in questa zona qua chiaramente lui è morto quindi è un'ipotesi che andrebbe valutata e probabilmente anche all'analisi dell'esame dei magistrati soprattutto di quelli che stanno indagando per le altre stragi di Firenze, Roma e Milano però è un dato che qui quella presenza c'era allora se c'era una presenza esterna a Cosa Nostra quello è l'anello di congiunzione fra gli interessi di Cosa Nostra e gli interessi esterni a Cosa Nostra io di questo sono abbastanza convinto e anche abbastanza certo insomma se la logica ha un senso io credo che questa idea sia fondata ecco sia basata su dati concreti Falcone a Saveri Rodato giornalista storico giornalista di cronaca giudiziaria che ha vissuto con te la scena palermitana ma quegli anni, quelle decadi le ha costruite, le ha vissute in primo piano parlerà di menti raffinatissime in riferimento a delle entità esterne a Cosa Nostra subito dopo l'attentato, il fallito attentato dell'89 nella sua villa Laddaro nella villa in cui in quei momenti Falcone stava in quel momento con i giudici svizzeri per appunto coordinare delle indagini allora lì Falcone intanto aveva compreso moltissime cose la prima e forse più importante era la connessione che esisteva fra la mafia e il mondo imprenditoriale c'erano enormi ingenti capitali che stavano per essere spostati in Sicilia per realizzazione di opere e infrastrutture erano coinvolte le più importanti società del nord Italia e che avevano capito che per arrivare sul territorio dovevano stringere patti con Cosa Nostra e avevano costituito società con mafiosi Falcone questo l'aveva capito e aveva compreso che questo poteva essere un grosso rischio allora l'attentato della Davura era un attentato che si mirava a Giovanni Falcone ma mirava anche a queste intuizioni che Giovanni Falcone aveva avuto cioè al fatto che c'era una connessione fortissima fra il mondo imprenditoriale, la mafia e anche il mondo politico che era coinvolto perché riceveva dalla mafia e dall'imprenditoria enormi risorse insomma queste cose per cui lui quando avviene l'attentato della Davura ripeto Falcone è una persona riservatissima io che sono stato con lui in ottimi rapporti personali ci scambiavamo le opinioni io gli regalavo i libri quando gli chiedevo interviste lui sfuggiva sempre dice no ma lasciami perdere pure tu che sei amico mio mi rompi le scatole quindi per parlare e Lodato ha subito la stessa cosa però quando Falcone decide di parlare sceglie di parlare con Lodato e lo chiama e gli dice Lodato dice mi convoca proprio per far capire che era un'eccezione una cosa eccezionale Falcone gli parla e gli dice dietro questo attentato ci sono menti raffinatissime che lavorano e agiscono con Cosa Nostra quindi lui fa capire chiaramente che esiste un livello esterno a Cosa Nostra non diciamo più in alto di Cosa Nostra o più in basso di Cosa Nostra è sicuramente un livello di complicità all'esterno di gente esterna a Cosa Nostra che con Cosa Nostra dialoga e a cui dà indicazioni su quello che deve essere fatto l'attentato della Dauria è fatto da Cosa Nostra sul richiesta di questi ambienti esterni all'organizzazione mafiosa questo lo dice in chiaro Falcone fino a quando a queste menti raffinatissime non saranno assegnati dei nomi e dei cognomi noi continueremo a non sapere la verità non solo sulla Dauria ma anche sulla stagione delle strage del 92 perché il progetto dell'89 si riproduce identico nel 92 anche lì la mafia agisce ma per conto di chi? per un progetto in cui la mafia è il braccio armato malamente il progetto politico è stato ordito da altri e questo sicuramente è un elemento di incertezza, di dubbio che non solo dobbiamo costantemente inseguire per cercare di capire ma che serve alla società civile per pretendere la verità assoluta su questa cosa qui perché noi non ci possiamo accontentare del fatto che quattro piddani sono andati in galera e ci moriranno probabilmente insomma non è una cosa che si può accettare ma anche se non si può accettare il palermo stiamo davanti al tribune di palermo questo per Giovanni Falcone è stato un luogo simbolico positivamente ma anche negativamente questo in quegli anni, anni 80, 70, 80 e 90 è stato chiamato anche il palazzo dei veleni cioè Giovanni Falcone veniva posteggiato, attaccato e delegittimato tu in quegli anni eri lì Falcone e Borsellino e il pull antimafia sono stati visti come un corpo esterno dal tribunale cioè non erano accettati i loro metodi innovativi, straordinari non era accettata la loro capacità di lavoro, di indagine la loro intuizione, intuizione di Falcone, di Chinnici, di Caponnetto bisognava andare nelle banche a cercare le connessioni fra i mafiosi Falcone se fa sequestrare nelle banche palermitane una quantità enorme di assegni li spargono sui tavoli e li cominciano a connettere e cominciano gli interrogatori a dire a questi mafiosi quando saranno arrestati dopo le dichiarazioni di Buscetta ma lei che rapporti economici aveva con quest'altro? Inizia una rete comincia a costruire una rete fittissima, una trama e Falcone veniva accusato di voler mettere in ginocchio l'economia siciliana cioè in questo palazzo si sosteneva, i suoi colleghi, i vertici di quegli uffici dell'epoca sostenevano che lui voleva, e che Chinnici e gli altri volevano mettere in ginocchio l'economia siciliana se quella fosse un'economia sana, un'economia drogata in senso proprio dalla quantità di denaro che arrivava qui per il traffico internazionale degli stupefacenti dell'eroina di cui la mafia era stata delegata alla raffinazione e al commercio internazionale cioè i capitali di Cosa Nostra erano in grado di sovvertire l'economia di uno stato come oggi lo sono i capitali dell'andrangheta quindi era un colpo estraneo, parliamoci chiaro, io lo dico sempre tutte le occasioni qui c'erano una cinquantina in Sicilia, a Palermo c'era una cinquantina fra magistrati e investigatori che facevano una vera lotta alla mafia gli altri guardavano sperando che questi andassero a sbattere che sbagliassero e quando questo non accadeva perché loro erano molto attenti alle regole alle norme e andavano diritti per la loro strada è cominciato il processo di delegittimazione l'episodio di Contorno che torna qui avessato col cugino arriva la lettera del Corvo in cui si dice che Falcone e De Gennaro avevano garantito a Contorno la possibilità di esercitare insieme col Puccino Grado la vendetta degli ex bontate nei confronti dei Corleonesi cioè tentano in tutti i modi di delegittimare l'unico argine vero contro Cosa Nostra non solo ma un magistrato che aveva intuito che c'erano delle connessioni perché lui ha parlato delle menti raffinatissime dopo l'attentato della Daura e poi quando andrà a Roma lui comincerà a indagare su Gladio si farà dare gli incartamenti su Gladio perché capisce che Gladio è quella struttura quella struttura quella struttura di persone che hanno le armi e che potrebbero aver avuto un ruolo anche nella stagione stragista ricordiamo che Di Carlo poi racconterà il collaboratore imprenditore grande trafficante internazionale di droga Di Carlo quando comincerà a collaborare con la giustizia racconterà di avere portato delle armi dal Trapanese fino al confine nord del paese armi per chi? armi ovviamente per chi doveva in qualche modo prepararsi a un'eventuale irruzione sulla scena democratica una destabilizzazione un golpe un golpe cioè francamente poi ricordiamo che il 93 c'è il blackout che il presidente Ciampi che ha la percezione nitida che stia succedendo qualcosa arrivano diciamo gli armati a difenderlo e ci sono i centri di diffusione delle informazioni la radio la televisione che vengono in qualche modo presi messe in sicurezza cioè c'era un clima da colpo di stato questa è la situazione questa situazione è stata preparata da un processo di isolamento di tutti quei magistrati che erano irregolari rispetto a questo processo di destabilizzazione Falcone e Borsellino erano delle persone assolutamente irregolari perché non erano collegate alle correnti della magistratura anzi erano boicottati dalle correnti soprattutto Falcone Falcone ha collezionato solo bocciature cioè tanto più emergeva la sua statura di giurista e di magistrato in grado di veramente di colpire a fondo cosa nostra di ottenere risultati senza precedenti la lotta alla mafia praticamente tanto più lui collezionava battute d'arresto al CSM consigliere istruttore cioè mai concepibile in un paese che avrebbe dovuto prenderlo e farlo ministro della giustizia praticamente lui è stato bocciato in tutte le occasioni pubbliche in cui doveva cercare consenso esterno ma anche interno dei suoi colleghi magistrati per svolgere delle mansioni delle funzioni diverse rispetto a quello di giudice istruttore e di magistrato legittimazione e depistaggio vanno di pari passo sono su due binari sono su due binari che in realtà appartengono alla stessa strategia depisto e nascondo la verità fino a quando posso quando non posso le persone che in qualche modo rappresentano un pericolo io le elimino come le elimino lo sai diceva bene Falcone se tu un uomo rimane solo viene indicato lui diceva una cosa bellissima a un convegno gli ho sentito dire dice guardate che voi pensate sempre che ci sono i gruppi imprenditoriali politici i complici di Cosa Nostra che ordinano danno un ordine di uccidere Tizio Caio non funziona così basta che in un consesso uno alzi la spalla per far capire quello non conta niente è solo per indicarlo e farlo diventare un obiettivo questo è il dato quindi loro sono stati isolati e vengono isolati attraverso questo progetto ogni volta che un magistrato è alieno rispetto al contesto generale un investigatore è alieno rispetto al contesto generale perché attenzione non sono stati i magistrati a subire questi processi di delegittimazione ed isolamento pensiamo a sapere Montalbano che scoprì praticamente a Trapani scoprì la presenza massiccia di logge massoniche la più alta concentrazione di logge massoniche d'Italia si trova a Trapani dove c'era peraltro la più alta concentrazione anche di sportelli bancari qualcosa significherà in una terra che è una provincia allora questo questo processo di delegittimazione avviene anche ogni volta che un magistrato un investigatore si discostano dal contesto generale è successo appunto poi ovviamente non bisogna fare come dire assimilare persone diverse con compiti diversi con responsabilità diverse per esempio quello che è successo con Nino Di Matteo è anche del camoroso perché praticamente Rina dice in carcere che avrebbe dovuto farlo saltare in aria lo condanno a morte lo condanno a morte e diciamo viene preso talmente sul serio che oggi ovviamente finalmente viene dato un dispositivo di sicurezza a Nino Di Matteo all'altezza della sfida perché pensiamo che Falcone e Borsellino la cui difesa era affidata alla Barbera quello che indagherà sulle stragi sono stati difesi in maniera tale che sono saltati in aria quindi qualcosa c'era che non funzionava nel dispositivo di sicurezza quindi ora che Nino Di Matteo venga indicato da Rina in carcere come un obiettivo prioritario io mi chiedo per quale ragione Nino Di Matteo si indagava sulla mafia militare ha indagato anche sulla mafia militare ma soprattutto indagava sulle connessioni tra la mafia e il mondo esterno e quindi lui rappresentava un pericolo per questo perché poteva tranciare quelle relazioni che erano la vera forza di Rina senza quelle relazioni attraverso le quali Rina condizionava tutti i mafiosi perché non li metteva a parte delle sue relazioni con la politica tant'è vero che era sempre lui a sostenere durante le riunioni della commissione o dei capi mafia diceva no noi mi hanno detto ho fatto ho parlato ho detto eccetera eccetera quindi in realtà quindi il pericolo di Matteo era anche il pericolo di tranciare di portare alla luce il rischio che si portasse alla luce questa congerie di connessioni fra la mafia e il mondo esterno che l'ha sempre sostenuto ci sono quelle come dire in buona fede che esprimono un punto di vista perché non necessariamente in Egitto tutti possono essere d'accordo su una strategia diciamo si possono avere dubbi si possono discutere ma in un paese non si arriva all'aggressione se tu arrivi all'aggressione devi sospettare che qualcosa di storto ci sia perché una persona può essere legittimamente contraria a uno sviluppo delle indagini in una direzione in un'altra un'altra cosa è l'aggressione e soprattutto addirittura ipotizzare che queste vere minacce in fondo in fondo di Matteo non l'abbia ricevuto mentre noi sappiamo che l'esplosivo è stato cercato è stato accumulato che c'è quindi l'attentato era un progetto molto molto avanzato insomma queste cose qui secondo me bisogna che creino allarme come giustamente l'hanno creato e l'opinione pubblica più avvertita ha capito quella posta in gioco era era questa e quindi si è stretta anche intorno a Nino Di Matteo intorno ad altri magistrati anche Ardita che ha raccontato tutta tutta una serie di vicende legate alla al 41 bis insomma c'è ci sono un sacco di arie grigie ecco arie grigie dove è stato è stato eh violata eh violate le regole o per ambizioni personali o perché c'era una sconsonanza politica con i mandanti del processo di restabilizzazione un'ultima domanda oggi a 31 anni di distanza dalle stragi di Capaci vedo a me il 92 a 30 anni da quelle del continente di Roma, Firenze e Milano che Palermo vedi e che paese che Italia vedi rispetto al tema? io guardo penso che ci sia una complessiva disattenzione nei confronti del fenomeno criminale questo perché da una parte eh diciamo i media vengono annegati da una quantità straordinaria di piccole indagini inchieste arresti eccetera eccetera cioè quando tu l'opinione pubblica assiste ai telegiornali che ti bombardano di continui arresti su questioni di di spaccio di droga eccetera eccetera ha la sensazione di essere come dire garantita e sicura è vero che queste operazioni sono indispensabili ma che stiamo dicendo che lo parlate no no chiaro quelle operazioni sono indispensabili però ci vorrebbe altrettanta attenzione nei confronti delle delle grandi inchieste penso al processo di Catanzaro per esempio mafia stragista stragista che viene pressoché ignorato dai media per esempio per esempio per esempio altre altre inchieste ripeto anche anche l'inchiesta trattativa al di là delle punte polemiche che sono state espresse in fase di di sentenza durante le sentenze con schieramenti da una parte dall'altra diciamo a sostenere o meno le ragioni dei procuratori delle corti però alla fine il vero processo chi l'ha seguito? quante persone hanno seguito questo processo? io ricordo che il processo Anderotti è stato seguito udienza per udienza il processo Contate è stato seguito udienza per udienza non è un paese che deve essere democraticamente legittimamente rassicurato con la trasparenza anche dei media quindi questo è successo un paese complessivamente disattento perché non ci sono più i drammi diciamo che hanno caratterizzato il 92 il 93 c'è ci sono tante altre emergenze dalla pandemia alla crisi economica diciamo la situazione generale internazionale che non ti garantisce tranquillità e quindi c'è che c'è un desiderio diciamo di normalità in questo desiderio di normalità è sempre rischioso non a caso diciamo quelle persone più avvertite le magistrate gli investigatori sostengono sempre attenzione perché quando la mafia non spara quando c'è questo processo di disattenzione generale le organizzazioni si rafforzano ecco quando si rafforzano aumentano il loro livello di scambio con la politica con l'economia con il mondo delle professioni e si ricomincia il cerchio si ricostruisce e si ricomincia da capo e quando la situazione rischia di diventare esplosiva speriamo di no allora si cercherà una soluzione una soluzione quasi sempre anche un grande cambio di scenario politico come è successo nel 94 e come può sempre succedere grazie dottor grazie